Iubetutem, post molestam, sedetutem, nosa benevitumus, nosa benevitumus. Vita, vita! Vita, vita! Vita, vita! Vita, vita! Vita, vita, vita! Garissimo Rettore, quest'anno sarò breve, ogni anno non funziona questa storia, vero? No, come ha detto anche prima, lei quest'anno ha fatto tantissime cose, a quanto pare positive, e per cui noi Gugliardi siamo veramente arrabbiati, perché non abbiamo modo di canzonarla come più si fa, però quest'anno, visto che comunque sia è un po' di tempo che si trova in un nuovo ufficio e manca qualcosa che ricordi la nostra presenza sempre o comunque, abbiamo pensato un piccolo dono, mi raccomando, per il prossimo anno faccia qualcosa di spiacevole, qualcosa di sbagliato, va bene, ci provo. Per cui, lo lascio io, lo sarò a sapere. È visibile? Sì, è visibile. D'accordo. Forse. Allora, forse. Beh, molto bello. Ritorniamo un pochino all'antica tradizione di Ferrara. Un bellissimo piatto. Grazie. Grazie, veramente molto bello. Però stavolta mi piacerebbe veramente vederlo attaccato al suo ufficio. Questo lo attaccherò sicuramente nel mio ufficio, che in realtà, come sapete in molti, è una stanza da letto di uno studentato, perché sono stato sfrattato dal rettorato, lesionato dal terremoto, e questo farà sicuramente la sua bella figura all'interno del mio studio. Mi raccomando, continui così, ci proviamo. E ci si vedrà prossimamente. Grazie. E comunque adesso sì che si può dichiarare aperto il 623esimo in Accademia, non prima. Va bene, grazie. Un'altra foto col piatto. Andiamo. Grazie. 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 Toro dell'Università di Ferrara. Grazie molte.